La direzione generale autorità di gestione del FERS ha fatto sapere che la giunta regionale con delibera 391 del 28 luglio 2020 razionalizzazione delle risorse e programmazione interventi strategici e urgenti per la crescita e lo sviluppo del territorio campano ha programmato risorse pari a 7 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento viabilità alternativa al sottopasso a livello della stazione ferroviaria di Pestum. A comunicarlo ufficialmente al comune di Capaccio Pestum è la direzione generale per la mobilità della regione campania. L'intervento si inserisce nelle priorità del POC 2014-2020, linee ad azione, trasporti e mobilità. L'intervento prevede la realizzazione di una viabilità perpendicolare alla rete ferroviaria con partenza dal parcheggio presso l'ex Cirio fino al raggiungimento della rete ferroviaria dove è prevista la realizzazione del sottopasso. Il sottopasso è una infrastruttura che la comunità di Capaccio Pestum attende da anni ormai, dichiara il sindaco Franco Alfieri. Per questo motivo ci siamo messi al lavoro da subito per realizzarla. L'intervento permetterà non solo di collegare l'area archeologica e l'intera frazione di Pestum con il capoluogo, ma renderà più agevole l'accesso tramite la Statale 18. Grazie al finanziamento oggi ufficiale lavoreremo per l'avvio della gara d'appalto entro dicembre.